Interporto si scaldano gli animi fuori i cancelli dell'impianto, dal sindaco Tidei, solidarità ai lavoratori, si attende il CDA di oggi. L'amministratore unico di Città Pulita, Gino Ciogli, rimane al suo posto, lo conferma Tidei dopo l'avviso di garanzia dell'ex sindaco di Cervete, ripertentata concussione. Calcio, promozione nella gara d'andata dei sedicesimi di Coppa Italia, il Santa Marinella cede 2-0 sul campo del football club. Ben trovati dal TGI Alto Lazio, animi agitati all'interporto in attesa del consiglio di amministrazione di oggi, questa mattina nel quarto giorno di sciopero dei lavoratori, ancora attività bloccate, tirra fermi fuori i cancelli. Sul posto anche il sindaco Tidei per i dettagli e le nostre interviste. Quarto giorno di sciopero qui all'interporto, soprattutto una giornata importante quella di oggi perché si riunisce il CDA di CPL. Esatto, siamo in attesa e dopo quattro giorni, come ben vedete, gli animi si stanno surriscardando. Noi il nostro pensiero già l'abbiamo espletato più volte. Chiaramente l'attesa sta snervando tutte le maestranze di questo impreso. Nella speranza che possano prendere una decisione che ci porti nuovamente il lavoro, vediamo un po' adesso quello che accadrà. Le nostre strategie naturalmente sono legate esclusivamente a questo fatto ad oggi. Ieri sera abbiamo avuto un incontro con il sindaco, un incontro proficuo dove abbiamo stabilito delle fasi, abbiamo stabilito tante altre cose. Anche una compartecipazione del comune all'interno di questo CPL se sarà necessario. Del CDA intanto c'è una promessa da parte del sindaco, quella di riuscire a erogare almeno 50.000 euro per il pagamento degli stipendi. Il sindaco si è impegnato per questi 50.000 euro e per noi è un atto di buona volontà per cercare di risolvere la situazione. Sicuramente è un'altra situazione tampone che non porterà a una soluzione definitiva, ma intanto avere dalla nostra parte l'amministrazione comunale sicuramente ci conforta. Il problema è che oggi questo CDA dirà cose importanti e ci farà capire quali sono le reali prospettive dell'azienda. A questo punto noi rimaniamo qua in attesa che venga erogato effettivamente lo stipendio perché stare qua nella speranza che poi si trovano accordi successivi diventa veramente una speranza vana. Arriva subito un rinvio al processo che vede imputato l'ex amministratore unico della holding Civitavecchia Servizi Massimo Felice Lombardi. Accusato di mancato versamento IMS per una cifra che si aggira sui 300.000 euro. All'udienza di ieri si è solo proceduto alla consegna della lista testi. Tra i testimoni nominati del legale difensore di Lombardi compare anche l'ex sindaco Gianni Moscherini. Oltre a lui nella lista testi della difesa di Lombardi compaiono anche i nomi di Antonio Rioles d'Este, l'attuale amministratore di HCS Rina Romagnoni e il direttore di esercizio di Argo Paolo Iarlori. Il processo è stato aggiornato a marzo 2013. Ciogli rimane al suo posto, poi si vedrà questo il commento del sindaco Pietro Tidei alla notizia dell'iscrizione dell'attuale amministratore unico di Città Pulita, Gino Ciogli, nel registro degli indagati. Con l'accusa di tentata concussione per vicende legate al suo incarico di ex sindaco di Cerveteri, per i raguagli la nostra intervista. Sindaco Tidei, l'amministratore unico di Città Pulita, Gino Ciogli, oggi si trova appunto indagato per delle vicende che lo riguardano quando era sindaco di Cerveteri. Che cosa ne pensa? Ma intanto dobbiamo dire che l'avviso di garanzia è un avviso appunto a garanzia dell'indagato, non dell'imputato perché non c'è un rinvio a giudizio. Quindi io personalmente conosco Gino, lo conosco da tanti anni, lo conosco da oltre 40 anni e continuo a pensare che è una persona per bene, una persona degna della massima stiva e della massima fiducia. Ovviamente se la magistratura ha ritenuto di dover aprire questa indagine e avvisare l'indagato, ne avrà avuto le ragioni. Io posso soltanto augurarmi che lui sia estraneo, totalmente fatti addebitatili e quindi possa ritornare sicuramente con tranquillità a fare il suo lavoro. Quindi rimane tranquillamente al suo posto ad oggi? Siamo in una fase dell'indagine quindi mi pare che non ci sia nulla di più, ovviamente le cose cambierebbero se si tratta di un rinvio a giudizio. Di tensione lunedì pomeriggio in porto sulla nave da crociera Nordham della compagnia Holland American Line. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, una quarantina di lavoratori di un'azienda locale sono stati sorpresi mentre stavano movimentando dei bagagli a bordo. D'operazione consentita a terra soltanto ai lavoratori portuali che sulle navi viene poi di solito svolta direttamente dal personale imbarcato. A lanciare l'allarme sarebbe stato proprio un dipendente della compagnia portuale che ha richiesto l'intervento dell'autorità portuale e della capitaneria di porto. I presunti irregolari sarebbero entrati nell'area riservata dal terminal crociere di RCT dichiarando di essere stati chiamati dall'agente marittimo della nave per eseguire operazioni di pulizia a bordo. E fin lì la situazione avrebbe anche potuto non destare perplessità dal punto di vista normativo. La movimentazione dei bagagli è l'elemento che però dovrà essere chiarito insieme alla regolarità o meno della posizione dei lavoratori rispetto alla ditta che li ha chiamati. Alla fine i carabinieri sono riusciti a trovare la quadratura del cerchio e a collegare tre rapine di un tentativo fallito avvenuto lo scorso anno tra agosto e settembre a Civitavecchia, la Dispoli e Pescia Romana. Così ieri mattina sono state eseguite quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di Gianluca Kocev, Guerrino Bevilacqua, Vito Leonardo Novello e Danilo Pinna. L'operazione ha permesso di mettere in evidenza lo stesso modus operandi utilizzato dalla banda. Due o tre persone con parrucche e occhiali, una con cappello con visiera, giacca, tuta da ginnastica, marsupio o tracolla, taglierino e pistola semi-automatica si introducevano dentro le banche. Ma per tutti i dettagli sentiamo la nostra intervista al capitano Lorenzo Ceccarelli, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Civitavecchia. Un'intensa attività di indagine che ha permesso finalmente di chiudere il cerchio su quelle che sono state delle rapine su tutto il territorio. Un'attività intensa che è andata avanti da agosto 2011 fino ai primi febbraio del 2012, un'attività condotta attraverso indagini tradizionali ma anche attività tecniche. Un'attività che ha visto impegnati i militari della stazione Carabinieri di Civitavecchia principale per un intenso sforzo. Siamo riusciti tramite ricognizioni fotografiche, ricognizioni di cose, tramite analisi del traffico telefonico, tramite indagini tradizionali a ricostruire in capo i quattro soggetti che oggi sono destinatari degli ordini di custodia cautelare e dell'irresponsabilità di gravi indizi di colpevolezza in ordine alle tre rapine perlomeno commesse sul nostro territorio. Quella di Ladispole del 22 di agosto, una alla Unicredit a Civitavecchia del 27 di settembre 2011 e l'altra al Banco di Sardegna del 10 ottobre 2011. Rapinatori seriali quindi che si organizzavano scegliendo colatamente i loro obiettivi, studiando le modalità di accesso, gli orari migliori per poter operare e che operavano secondo un modus operandi abbastanza standard, cioè entravano all'interno dell'istituto bancario, bloccavano l'ingresso non permettendo quindi a persone ignare chiaramente di accedere in banca o comunque di uscirne, di dare l'allarme, travisati con parrucca, occhiali che comunque che indossavano degli indumenti piuttosto ampi per poter poi occultare all'interno sia il denaro in uscita ma anche armi che alcune dei quali sono rilevate giocattolo. Diciamo che la svolta si è avuta con pescia romana. La svolta si è avuta con pescia romana per quanto riguarda il cerchio quadrato con pescia romana ma il tentativo di pescia romana che era già comunque sotto monitoraggio di attività tecnica ha consentito soltanto di individuare esattamente i quattro soggetti che poi erano quelli, i reali esecutori delle rapine. L'attività di pescia romana ha consentito in particolare di individuare nell'alveo di tutti i soggetti indagati che comunque erano sotto attività, sotto intercettazione, di individuare quali erano proprio quelli che avrebbero dovuto operare e che avrebbero operato per le successive attività. Anche dall'ASL Roma-F confermano che non c'è alcun problema con i vaccini dopo le circa 2,3 milioni di dosi bloccate. La Crucial infatti ha sospeso tutte le consegne dei vaccini contro l'influenza stagionale portando avanti e contemporaneamente un'indagine interna relativa a due lotti incriminati. Nelle prossime settimane arriveranno quindi i vaccini per poter procedere alla campagna antinfluenzale. Fino al 31 ottobre si potrà procedere con le prenotazioni. Per tutte le informazioni è possibile visitare il sito aziendale www.aslrmf.it dove si trovano anche i numeri necessari a cui rivolgersi per i diversi distretti di appartenenza. Quest'anno è prevista la circolazione di due nuovi virus e questo lascia prevedere che l'epidemia possa essere più vivace del solito. Si stima ne possano essere colpiti tra i 4 e i 6 milioni di italiani. Dopo Montalto anche l'amministrazione comunale di Tarquinia rassicura i cittadini sull'esenzione del pagamento dei pedaggi dell'autostrada tierrenica. I residenti non pagheranno il pedaggio per l'autostrada. È inutile che si continui ad affermare il contrario. Afferma il sindaco Mauro Mazzola. L'amministrazione comunale di Montalto di Castro non corra dietro a chi è stato sconfitto in ogni competizione elettorale, dice il primo cittadino etrusco, riferendosi alle dichiarazioni rilasciate dalla lista per il bene di Tarquinia. Non ci sarà distinzione di trattamento tra cittadini toscani e laziali. L'esenzione del pedaggio è indiscutibile. E' discutibile invece l'azione di un piccolo gruppo di persone che continuano a creare allarmismo per avere un po' di visibilità e dare senso alla loro vita politica. Politica tanto disprezzata ma sotto sotto tanto amata. Altrimenti come spiegare il presentarsi prima delle elezioni regionali e poi a quelle comunali ottenendo lo stesso identico risultato. La debacle più cocente. Il primo cittadino poi sottolinea come amministrazione non avremmo mai permesso che il corridoio terrenico comportasse per il territorio costi sociali e ambientali insostenibili. Così è stato. Il nuovo tracciato ricalcherà quello della statale Aurelia. Saranno eliminati i percorsi pericolosi e gli incroci pericolosi a raso. Sarà garantita e potenziata la viabilità secondaria. Sarà dato lavoro alle imprese locali. La Giunta e il Consiglio Provinciale hanno deliberato nei giorni scorsi la somma di 200.000 euro per il parziale rifacimento e la messa in sicurezza della strada Tolfa-Santa Severa. Tale iniziativa segue ad un'esplicita richiesta del sindaco Luigi Landi che nei mesi scorsi aveva evidenziato al presidente della provincia di Roma Nicola Zingaretti e all'assessore alla viabilità Marco Vincenzi e alla totale assenza di interventi dell'amministrazione provinciale sia sulle strade di collegamento a Tolfa che sulle pertinenze di sua competenza come marciapiedi, colonine e muri di confine. L'azione amministrativa svolta dall'assessore alla viabilità insieme ai consiglieri provinciali Lancianese e Ia di Cicco ha prodotto sicuramente un discreto risultato come ha sottolineato il sindaco. Rimangono in piedi altri interventi importanti e necessari per rispondere alle giuste istanze delle collettività locali. Pochi fondi per la misericordia e polemica Santa Marinella. Sono ormai 20 anni che la misericordia di Santa Marinella provvede al servizio di soccorso stradale e trasporto dei disabili idealizzati nei centri medici. L'amministrazione comunale ha dato costantemente un proprio contributo economico per consentire ai volontari dell'associazione di poter provvedere alla gestione dell'attività giornaliera. La misericordia si è resa protagonista di una serie innumerevoli di interventi salvavita. Grazie al fatto che operando direttamente sul territorio cittadino riusciva a salvare la vita persone colpite da malattie cardiache trasportandoli in pochi minuti all'ospedale. Senza contare che alla bisogna i volontari si sono dimostrati sempre disponibili ad accompagnare persone anziane e senza parenti nelle strutture sanitarie della zona per analisi, controlli e sedute per dializzati. Per questo il comune finanziava il servizio con circa 80 mila euro anno, il tutto però fino al 2010. Poi qualcosa è cambiato perché l'amministrazione comunale ha ridotto drasticamente il contributo fino ad arrivare a 27 mila euro dell'anno in corso. Insomma una vera e propria stretta che ha sicuramente limitato l'attività dei volontari. C'è inoltre da aggiungere che da qualche tempo non è più possibile contattare direttamente la sede della misericordia in caso di emergenza, in quanto si deve passare attraverso il 118 regionale. Una scelta che sta creando enormi difficoltà alla cittadinanza. Turismo. Questa grande chimera a Tarquinia. I consiglieri comunali d'opposizione, Pietro Serafini, Alfio Meraviglia e Laura Voccia e Marcello Maneschi, puntano il dito contro l'amministrazione Mazzola, accusata di non dare sufficiente attenzione al settore. Un altro anno sta per passare, dicono, in questi mesi molti operatori partecipano alle fiere turistiche promosse da regioni, province e comuni di tutta Italia. Le fiere sono un momento di incontro e di formazione per gli operatori ma anche per gli amministratori, dove è possibile capire quali saranno i flussi turistici per l'anno 2013. In programma ci sono congressi, analisi, corsi, lezioni, workshop. Molti tour operator programmano la stagione 2013. Tarquinia invece rimarrà all'uscio anche per il prossimo anno. Basti pensare che il nostro ormai famoso infopoint non è in grado di spedire nemmeno le comunicazioni. La stagione turistica dei nostri amministratori, proseguono i consiglieri d'opposizione, è ormai obsoleta da tempo. Le competenze in materia sono veramente scarse. Basta guardare il sito Tarquinia Turismo. Si presenta triste cupo alla faccia dei visitatori. Nessuna foto per le attività, nessun link e nessun telefono. E passiamo allo sport calcio. Brutta prestazione esterna del Santa Marinella di Gabriele Domenici nella gara d'andata dei sedicesimi di finale di Coppa Italia. De Santis e i compagni infatti sono stati sconfitti per 2-0 dal football club al termine di una gara condotta per quasi tutti i 90 minuti dai padroni di casa. Il tecnico tirrenico schiera una formazione composta da quattro fuori quota e lascia in panchina diversi titolari. L'approccio dei santamarinellesi alla sfida non è dei migliori. I romani pressano con grinta e con il loro gioco veloce mettono spesso in difficoltà la retroguardia rosso-blu. Già al terzo i capitolini mancano una clamorosa occasione con Barra ma il giocatore si riscatta subito mettendo a segno il primo gol al ventunesimo quando in aria si libera di brutti e batte Nardini con una bordata a mezza altezza. 15 minuti dopo il football club raddoppia con Barile grazie ad una dormita dell'intero pacchetto arretrato ospite. Il santamarinella si sveglia nella ripresa ma i rosso-blu non riescono mai a concretizzare. E passiamo alla box. Che fosse figlia d'arte si sapeva che volesse ripercorrere in qualche modo le strade battute dai suoi familiari però è una novità degli ultimi giorni. Alessandra Branco figlia di Silvio, nipote di Gianluca si sta occupando personalmente dell'organizzazione della manifestazione che andrà in scena il 10 novembre prossimo al palazzetto dello sport di Civitavecchia e che vedrà lo zio combattere per il titolo dell'Unione Europea. Proprio la figlia del pugile di Civitavecchia ha spiegato la sua passione per questo mondo e le sue difficoltà che si incontrano nel mettere in piedi una riunione di alto livello. È la mia prima esperienza, è una passione che porto dentro da molto tempo ora finalmente potrò cementarmi in quello che più amo. Le difficoltà sono tante, a partire dagli sponsor fino ad arrivare al nulla ossa della federazione e ai successivi permessi utili a mettere in piedi un evento. Le carte da compilare sono molte e le porte a cui bussare tante, forse troppe. E passiamo al karate. La squadra femminile della FIC ha conquistato domenica scorsa a Novi Sade in Serbia il titolo mondiale in occasione dei quarti campionati del mondo juniores. La nazionale italiana è stata allenata, guidata e seguita all'angolo dal maestro Stefano Pucci coach della selezione femminile azzurra. Il mese di novembre si svolgeranno presso il Palafigi Cam di Ostia le due finali nazionali dei campionati italiani a squadre. Alla Mabuni Club di Civitai che è stata chiesta in prestito Francesca Della Rosa dal gruppo sportivo della Polizia di Stato di Roma e Deleonora Topino dall'ASD Talarico Karate Team Torino. Ma questa è l'ultima informazione per l'edizione del TG Alto Lazio e vi auguro un buon proseguimento con la nostra programmazione e vi ringrazio per la cortese attenzione. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.